bella a tutti ragazzi questo è un nuovo video in questo video ve l'ho messo gli schifi dallo slime ma ne sono potuti permettere 3 oro, argento e roba, rosso, ok roba io lo so eh lo so ma vi facciamo vedere da prendere le cannucce si vede che roba mmm guardate mio qui c'è l'oro aspetta l'oro l'oro è suidissimo però ce n'era uno l'oro lo stavo mettendo nell'argento vai verso il tuo questa è rossa questo è cosa vai facciamo uno alla volta proviamo a fare i balloncini dentro ecco qua la mia cannucce rosa guarda lascia facciamoceli per me inizio io aspetta no questi dopo iniziamo con questo che è il mio la puoi scomita per me ho fatto una chiappa ho fatto una chiappa ecco l'oro ecco l'oro perché non ci riesco ecco le chiappe poi c'è il colore agendo tutta roba il rosso di simone il giallo di un mio amico indovinate chi nei commenti e questo è il mio guarda come si fa ma simone fai la bolla tu le ho fatto ragazzi questo video era un unboxing schifido al 100% quindi invece di 3 euro stanno a 3,50 euro e vi saluto a noi bello ragazzi bello ragazzi